Sono già 33 ma un numero destinato a crescere le pizzerie di qualità che aderiscono al progetto delineato dalla Camera di Commercio Unica delle Marche denominato Pizze di Marca. Presentato ufficialmente in uno dei locali aderenti la nota pizzeria La Scaletta di Via Napoli ad Ascoli Piceno che ha anche preparato un'anteprima di degustazione per gli ospiti, il progetto intende valorizzare la cultura gastronomica marchigiana trasformando le ricette tradizionali in farciture di pizze gourmet. Pizze di Marca prende vita da un'iniziativa che aveva avuto in provincia di Pesaro Urbino sempre con l'ente camerale, un bel successo con le pizze delle terre di Rossini e Raffaello di cui Gianfranco Santi, oggi vicepresidente di Linfa, l'azienda speciale dell'agroalimentare della Camera di Commercio delle Marche ne è stato il primo responsabile sostenitore. Beh sì, questa idea di abbinare nella pizza e quindi la farcitura con i prodotti particolari diciamo di qualità, di grandi qualità della nostra regione nasce sostanzialmente undici anni fa e nasce con le pizze terre di Rossini e Raffaello nel Pesarese un'esperienza di grande importanza che ha dato non solo possibilità a molti cittadini e a turisti di apprezzare i nostri prodotti ma nello stesso tempo ha dato la possibilità alle nostre imprese agricole poi di poter collocare nel mercato in modo migliore quei prodotti che normalmente producono. Nello stesso tempo l'idea di abbinare la pizza ai vini è stata un'idea ed è un'idea vincente anche da un punto di vista salutistico perché da un punto di vista salutistico sappiamo bene che birra che normalmente si beve con la pizza rifermenta all'interno insieme alla pizza provocando per alcuni problemi digestivi quindi diciamo vino e quindi i nostri vini importanti, molto importanti che ci invidiano a livello nazionale anche rispetto alla qualità e prezzo abbinati a questa pizza è un binomio che sta producendo e ha prodotto in modo particolare per le pizzerie che hanno aderito a suo tempo un grande risultato economico. Per Simone Mariani, presidente di Linfa, la filiera corta, cortissima, a centimetro zero è il trend del momento a cui l'azienda speciale si allinea con questo progetto rimandato a lungo per l'emergenza Covid. In questi mesi abbiamo spinto tanto sulla promozione all'estero, in Italia e all'estero attraverso le fiere e come sapete abbiamo partecipato alle più importanti iniziative fieristiche italiane e estere. Oggi siamo qui per promuovere un'iniziativa che veramente piace e piace a tutti unire la pizza agli ingredienti classici, tradizionali della tradizione marchigiana dal nord al sud delle Marche con l'eccellenza dei prodotti di questa regione che trovano sulla pizza un'interpretazione nuova, moderna, innovativa e quindi la creatività degli chef pizzaioli in questo momento non ha limite e allora dall'oliva scolana alla casciotta d'Urbino, dal finocchio selvatico all'anice di Castignano insomma abbiamo veramente una molteplicità di sapori e di ingredienti che impreziosiranno delle pizze che diventano ovviamente pizze di marca, pizze gourmet che piaceranno a tutti i nostri concittadini. Per la prima volta nel menù delle pizzerie è presente questa pluralità di elementi della terra marchigiana che inorgogliscono i produttori e che rendono la complessità dei territori. Pizze di marca si intende che c'è la valorizzazione dei prodotti marchigiani ogni provincia ha la sua pizza e in pratica ci sarà addirittura una pizza autunno-inverno e una pizza primavera-estate per far fronte veramente ai prodotti freschi e stagionali abbiamo bisogno di valorizzare questi prodotti su un prodotto che chiamerei quasi popolare cioè la pizza e quindi mi aspetto che vengano anche le famiglie a far capire ai propri bambini che a un certo punto ci sono dei prodotti marchigiani di grande valore sia di terra sia ittici e alla fine l'abbinamento è con il vino. Il vino viene abbinato alle singole pizze e tutti i vini DOC, IGT delle Marche saranno praticamente anche coprotagonisti di questo progetto che è proprio un progetto di marketing sulla valorizzazione del prodotto agroalimentare. Qualche esempio da non perdere per provincia così? Beh guarda qui è molto difficile esprimermi però guardate ci sono delle pizze che ad esempio ad Ancona c'è lo stoccafisso con i pacassassi, il mosciolo chiaramente d'estate e beh c'è anche una reinterpretazione ad esempio dei vinci sgrassi sulla pizza e poi c'è l'oliva scolana che oggi sentiremo qui che viene dissociata su una pizza e la valorizzazione del vitello bianco, del vitellone bianco dell'appennino centrale. A portare i saluti del presidente di Camera Marche Gino Sabatini è stato Fausto Calabresi membro di Giunta Camerale che ha sottolineato il valore dell'enogastronomia anche in chiave turistica. Sicuramente il nostro presidente Gino Sabatini e noi dell'Aggiunta abbiamo voluto dare impulso alle nostre eccellenze enogastronomiche che riguardano un po' tutta la regione quindi sono state diversificate da nord a sud di tutta la regione. In questo modo noi cerchiamo di sviluppare le tipicità dei nostri territori che oltre ad avere un aspetto enogastronomico hanno anche un aspetto turistico in quanto molto legate insieme da questi due aspetti. Questo vuol dire anche far ripartire una certa economia? Sicuramente far ripartire tutto un settore economico particolarmente penalizzato prima dagli eventi sismici e poi dagli eventi pandemici quindi la Camera di Commercio ha voluto dare sviluppo a questa area particolarmente penalizzata. Le serate degustazioni già in programma vedono giovedì 25 novembre la pizzeria Dalla Vecchia Zia Ada a Fano lunedì 29 novembre pizzeria La Botte Ancona martedì 7 dicembre pizzeria La Palomba a Mondavio giovedì 9 dicembre pizzeria Gentil Rosso Fenile di Fano mercoledì 15 dicembre pizzeria Capriccio Monsano giovedì 16 dicembre pizzeria La Scaletta Ascoli venerdì 17 dicembre pizzeria Elis Marchetti ad Ancona. Le farciture delle pizze gourmet raccontano le peculiarità dei nostri territori in abbinamento ai vini Doc e DOCG pacca sassi, olive, salame, alici presidi slow food che parlano delle tradizioni enogastronomiche delle cinque province. Significativa l'adesione di locali importanti e pizzaioli rinomati così come la partecipazione dei giovani pronti a mettersi alla prova. In sede di presentazione hanno preso la parola anche Adele Cerisoli del ristorante pizzeria La Palomba di Mondavio e Marcello D'Erasmo di Mamma Rosa di Ortezzano Fermo e ovviamente il padrone di casa Mirko Petracci. Il valore che vogliamo trasmettere è proprio la cultura che c'è dietro alla preparazione di una pizza e quindi di conseguenza non solo quello che sono gli impasti quindi la digeribilità, l'utilizzo delle farine, il tipo di levitazione ma anche i vari abbinamenti che andremo poi a creare sopra alla pizza. Quindi in questo caso vogliamo proprio far arrivare il messaggio ai nostri clienti di quante primizie abbiamo nel nostro territorio quindi di quante specialità ci sono nel Piceno e come andarle ad utilizzare su una pizza. Che cosa assaggeranno gli ospiti in questa occasione? Allora in questa occasione abbiamo rivisitato un po' quello che è il cibo per eccellenza del Piceno quindi l'oliva ascolana dopo una sperimentazione fatta già in altri eventi passati oggi abbiamo insieme a Otello scelto di fare una pizza con fior di latte la carne macinata dell'oliva che è all'interno dell'oliva ascolana una tartare di manzo riazza marchigiana e con un fondo di oliva tenera ascolana tagliata a listelli. E per una pizza gourmet si può anche spendere un pochino di più rispetto a quella che può essere una pizza più tradizionale. Se noi vediamo il lato del food cost siamo a volte anche sopra a quello che si mangia nei ristoranti come food cost quindi sicuramente dovremo adeguare i prezzi delle nostre pizze agli ingredienti che andiamo a utilizzare sopra e riusciamo a farlo però trasmettendo tutto il valore che c'è sulla pizza tutta la ricerca ai nostri clienti perché altrimenti il prezzo non giustificherebbe il piatto che stanno mangiando. Da evidenziare che è stato anche elaborato un menu ad hoc disponibile su device tramite codice QR.